C'è anche la Basilicata, la mostra del cinema di Venezia con la presenza della Lucana Film Commission e grazie all'impegno e al coinvolgimento della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, l'APT, Sensi Contemporane, il Comune di Matera, il Comitato Matera 2019 e il GAL, la Cittadella del Sapere. Oggi il primo di una serie di appuntamenti che si snoderanno fino al 5 settembre prossimi nella città lagunare, nella sala GIFT, questa sera la Basilicata Terra di Festival, omaggio ai 70 anni della mostra del cinema di Venezia. Incontro con i principali festival cinematografici lucani, Maratea Film Festival, Lucana Film Festival, Cinema da Mare e Bella Film Festival. Ogni festival narrerà la propria storia divulgando i suoi materiali. L'appuntamento di oggi si chiude con la proiezione in piazzetta Sant'Antonio del film Basilicata Cost to Cost di Rocco Papaleo e con una selezione dei lavori dei filmmaker di cinema da mare.